Dopo la tragedia di Corsalone, un altro weekend terribile per le strade eretine. Due vittime nella giornata di sabato in due distinti incidenti stradali. Il primo si è verificato tra l'Evane e le ville di Terra Nuova, dove ha perso la vita Simone Provvedi, 47 anni. La sua auto si è più volte ribaltata in una zona piuttosto impervia di Mercatale Valtarno. Ha perso il controllo della sua Panda 4x4. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'uomo. L'altra tragedia è avvenuta ancora una volta sulla strada provinciale dello Spino. Ha perso la vita un 54enne originario di Como che stava viaggiando insieme ad un'altra persona. La sua moto è andata a sbattere contro il guardrail e l'impatto è stato fatale. La vittima si chiamava Roberto Draghi.